Sono solo lamiere, ma hanno assunto un valore fortissimo nella lotta alla mafia. La quarto Savona 15 è la croma blindata su cui viaggiavano gli agenti della scorta di Falcone, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani, morti nell'esplosione che tolse la vita anche a Giovanni Falcone e a sua moglie Francesca Morvillo. Alle vittime di mafia e alla lotta al crimine organizzato sono dedicate da sempre le iniziative della Premio Nazionale Borsellino. A Pescara l'Associazione Culturale ha organizzato un evento proprio in ricordo della strage di Capaci. Sono orgoglioso di aver fatto parte del gruppo che ha arrestato alcuni degli autori, quali Brusca, Aglieri e quelli che erano i mandanti dell'omicidio. E questa è forse la cosa più bella perché è come un momento di ringraziamento che io devo a quei ragazzi che hanno perso la vita, che hanno consentito di poter catturare questi signori. Era più facile combattere la mafia quando la pensavamo relegata in Sicilia, oggi invece è altrove? Ma diciamo che è cambiato il modo di fare la lotta alla mafia e anche loro hanno cambiato il modo di operare perché oggi non si vede più l'omicidio tranne le case eccezionali o la strage. Oggi si vedono qualcosa di molto più informatico, oggi sono i bottoni che comandano, non sono più le pistole e i fucili che comandano. E quindi è ancora più sommersa, ancora più difficile da combattere. Le feratezze compiute dalla criminalità organizzata e la risposta dello Stato che devo dire finora è stata vincente e quindi anche a infondere in loro la certezza che anche i loro comportamenti sono importanti per la sicurezza e la garanzia della libertà di tutti. Grazie.